Edward? Salperò per Londra fra qualche mese. Sarei più felice se venissi con me. L'Inghilterra non è il posto migliore per un irlandese. Pensi di unirti agli assassini? No, non c'è quella vocazione nel mio cuore. E tu? Un giorno, sì. Quando avrò mente salda e sangue freddo. Ehi là, entriamo nel cubo! Sei un bravo uomo, Edward. E se imparerai a stare in un posto per più di un mese... ...allora sarai anche un buon padre. Ehi cinza, un paio... Ehi cinza, un bambino... Ehi cinza! Grazie a tutti. Grazie a tutti.